ci va piano, non ci chiede pausa. Sgumamento e sgumamento, però il vitruviano è tutto dunfiato, non voglio pausa. Può venerdì pausa, al limite i rallentamenti per riaccolparsi un gorgiglio. Va bene, magari dove c'è, a parte lì si passa la manetta, e se uno può la soccacci su, è vero che devo andare piano? Tanto per dirla una a casa. Vitruviano! Vitruviano uncut! Vitruviano! Vitruviano! E noi andiamo. E là! e via di roccione scumamento non è che siamo troppo attaccati si fa un filotto secondo me si 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 ottimo si l'acquetta di stamani gli ha fatto bene cazzo sono andato lungo non è che Oh, no, 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 no. queste situazioni di luce ombra ce la fa la telecamera è un po' Ecco i canaloni, i canaloni! E sterni? No, siamo tutti mi sembra. No, 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 c'è, c'è, c'è. Massone? Una delle fraccioniche è la casa. Non ci preoccupa, e poi sono un po' un poco più largo. Per ora sono ori, è un po' un po' un po' di qua. Questo è un po' chevicino. È un po' un po' di qua? No, è un po' di qua? Dio kuin? C'è un po' di qua? Che è un po' di qua? non c'era un punto con poca aderenza oggi ma non oggi è favoloso ma donna hollà hoppa Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via verso la schiacciata. Visualizzare la schiacciata. Grazie a tutti.